Non è mai facile trarre valutazioni politiche dal voto amministrativo che si caratterizza per il campanile, però dal voto di ieri, al di là di chi ha conquistato i comuni e di chi invece li ha persi, si possono ricavare alcuni segnali non trascurabili. Il primo riguarda l'astensione, meno marcata in Puglia ma fortissima altrove. Tre mesi non sono bastati a fargli acquistare fiducia, a convincere la gente della necessità di tornare alle urne. C'è ancora molta rabbia in giro, molta protesta. Alle politiche, questo è il secondo segnale, la rabbia ha trovato sfogo nel voto al Movimento 5 Stelle. Alle comunali, invece, la protesta è rimasta chiusa in casa, non se l'è sentita di imbarcarsi sulla nave di Grillo, anche perché alle comunali Grillo non c'era. C'erano i suoi candidati, che sono, come si è visto, tutt'altra cosa. Il che dovrebbe insegnare molto agli altri partiti, soprattutto in vista della riforma elettorale. Il Movimento di Grillo elegge più facilmente parlamentari che consiglieri comunali. Questo è importante. Vuol dire che non è radicato nel territorio, è soltanto un movimento ideologico. Se i partiti lasciassero votare liberamente i cittadini, facendogli esprimere una preferenza, facendogli scegliere un uomo del territorio, radicato, Grillo, non avrebbe più scampo. Per il resto, le comunali non hanno prodotto traumi, anzi, hanno rafforzato il governo. Sarà così anche fra 15 giorni. Ed è un buon segnale. Un segnale che fa sperare che il tempo darà ragione a chi ha voluto le grandi intese, che sono e restano un'emergenza. Perché, anche questo hanno detto le amministrative, PD e PDL sono concorrenziali. In tempi normali non potranno mai essere alleati. Adesso sì, ma adesso siamo in emergenza. Una volta tanto, la politica italiana ha dimostrato di saper funzionare. Grazie.